Un saluto e bentornati. Prosegue la fase di bel tempo sotto il dominio dell'anticiclone in espansione su buona parte del nostro continente. Solo e su tutta l'Italia anche nella giornata di martedì 20 giugno. È caldo in accentuazione nelle ore centrali della giornata salvo qualche acquazzone pomeridiano sull'arco alpino. Con l'ausilio della grafica accanto vediamo il dettaglio della previsione. Al mattino cieli in prevalenza sereni da nord a sud eccetto in occhi e densamenti nuvolosi sulle Alpi centrali. Nel pomeriggio si rinuovano condizioni di bel tempo su tutta la penisola con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Da segnalare soltanto qualche isolato piovasco sulle Alpi. Condizioni di generale stabilità anche in serata e nottata con cieli sereni su tutte le regioni italiane salvo qualche addensamento nuvoloso sulle Alpi e residui piovaschi. Prima di salutarci diamo un'occhiata anche alle temperature. Valori minimi previsti nel lieve calo in aumento su tutte le regioni invece di giorno con caldo intenso specialmente sulle principali città della pianura padana. E anche per oggi abbiamo concluso con le previsioni del tempo. Consultate tutti i dettagli sulla vostra città scaricando dal nostro sito la nuova app Meteo. Una buona giornata dal Centro Meteo Italiano.